E siamo giunti alla quinta, un Anziani sul miglio, otto in prima, tre in seconda, dove chiaramente Paul Digry è quasi no betting, rientrato bene un po' di giorni fa, ritrova ancora una corsa alla sua portata, 11 Anziani, quinta, miglio, ottimo l'allineamento, un po' discosto Paul Digry, che poi non partecipa al lancio chiaramente, via la macchina, Negus e Nijambo alle prese per i birilli, problemi per Pashman Light e Paul Digry subito rinviene, il 4 intanto a tabellone, si va al completamento del lancio che se ne va in 13,6, tutti aspettano Paul Digry e la sua scia è molto importante, e infatti Paul Digry si presenta su Negus Jet. Si completa il quarto iniziale, nell'ordine del 30 abbondanti, senza colpo ferire, Paul Digry ha il comando, rimane a largo Poseidon Group, nella cui scia si è posta preziosa per Henry Wise. 1,25 in chiusura la quota di Paul Digry, che completa in 46,8 da 1,18 i 600 iniziali. E Poseidon va a far pariglia con Paul Digry, si è formato una seconda fila a largo, a ripreso contatto anche Pashman Light, mezzo miglio in 1,3 e mezzo e cavalli che affrontano il penultimo rettilineo. Non ci sono variazioni, si va a timbrare un chilometro quasi turistico in 1,18 e 9. 500 alla meta. I cavalli affrontano la curva finale, Paul Digry, Poseidon, Negus, frazione ora in 14,4, fanno 1,33 e 3, i tre quarti di miglio. Ora allunga Paul Digry e mette il turbo. Retta d'arrivo Paul Digry allunga definitivamente su Negus Jet, viene via la grande la preziosa CAF di nome di fatto, regge Negus Jet, mentre Paul Digry una promenade de santé, un trottone di saluto sul palo, Negus Jet, argina, preziosa CAF. 2,2, chiusa importante, vabbè ma tutto sommato per Paul Digry, è un trottone invece di mattina, l'ha fatto alle 17,25. 2,2, 1,16 e 3, ripeto, 1,25. Bene Negus Jet che si salva da preziosa, mentre Baratti si consola dopo la deviazione dell'altro giorno con un buon quarto con i giambo. Linea allo studio. Grazie. 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 Grazie.